made in italy reale contro made in italy di facciata parliamone ciao amica benvenuta o bentornata sul mio canale youtube io sono ornella uzzino sono napoletana compro e produco borse originali in questo video andiamo a parlare di un argomento molto sottovalutato e da cui mi batto per la certificazione di filiera perché parlo sempre di certificazione di filiera proprio perché esiste made in italy reale e made in italy di facciata ma andiamo a spulciare un pochino alle spalle di quella che è la filiera produttiva partiamo dal concetto che il territorio italiano è disseminato di aziende piccole e grandi ma prevalentemente piccole quando parlo di piccole di aziende sotto i dieci dipendenti che producono borse accessori di vario tipo scarpe eccetera eccetera ora sembra una cosa omogenea in realtà con gli anni che cosa è successo mentre prima le fabbriche piccole bene o male producevano tutto e quindi facevano dalla fase di prototipo taglio sviluppo controllo qualità eccetera eccetera adesso col passare degli anni colpa anche dei brand il lavoro si è molto parcellizzato e quindi esistono gruppi che fanno solo tintura gruppi che fanno solo assemblaggio gruppi che fanno solo taglio eccetera eccetera quindi il territorio italiano è disseminato adesso di mega aziende aziende medie ce ne sono una certa quantità e una miriade di aziende micro quando parlo micro parlo appunto di sotto i dieci dipendenti ora che cosa succede non tutte le aziende a parte che partiamo da un concetto che sembra assurdo e lo dico così un po per polemica un po per rende bene partecipe che in italia non esiste un codice ad eco ad hoc per la pelletteria e così tutte quelle che sono le mansioni sono leggermente adeguate nei contratti questo cosa significa che non solo c'è un codice ad eco specifico per le produzioni di borse di scarpe di piccola pelletteria eccetera eccetera con delle specifiche ci sono dei codici generali ma manca anche un censimento non si conosce il numero reale di attività produttive soprattutto poi suddivise per produzione conto terzi per i brand o produzioni per brand propri quindi esiste proprio un gap informativo in mezzo a questo gap per anni e continuano ancora adesso a sguazzarci i furbetti quando parlo di made in italy reale e made in italy di facciata qual è tutti quelli che producono in italia possono opporre l'etichetta made in italy e qui siamo tutti d'accordo tutti quanti produciamo in italia produciamo in italia perché gli italiani proprio il lavoro degli italiani noi eccetera eccetera dimenticandosi che sul territorio italiano non esistono solo attività fatte da italiani e non esistono attività sempre e solo legali che cosa voglio dire che tolto che l'illegalità non è necessariamente straniera perché ce la siamo diciamo è molto autoctona da nord a sud non cominciate a fare perché sono napoletana parlo di certe cose quindi non voglio neanche vi banno subito ma diciamo che in generale da nord a sud esistono tutta una serie di illegalità soprattutto nelle fabbriche ognuno ha modo suo ora che cosa succede poiché le filiere non sono chiare succede quello che non deve succedere ovvero la maggior parte dei casi ed è una cosa su cui le grandi holding stanno provando da anni a metterci le mani che cosa succedeva prima facciamo un lavoro partiamo dai brand grandi che sono sempre più descrittivi prima fino a dieci anni fa il lavoro il mega brand prendeva e dava il lavoro brand x prendeva e dava il lavoro a y che è un molto spesso non non faceva neanche produzione faceva una sorta di logistica questo che faceva perché il brand x si toglieva tutte le responsabilità sociali dei problemi del subappalto a perché in italia non esiste una legge certa su subappalto nelle pelletterie e tutto il resto vabbè l'azienda poi ipselon che prendeva questo lavoro che faceva prendeva il lavoro molto spesso a dei costi di mercato molto competitivi come faceva a prenderlo perché questa azienda ipselon sotto di sé aveva un corollario di micro aziende che a loro volta avevano dei micro colorlari di tante aziende una sorta di sistema piramidale cioè se vogliamo network marketing delle produzioni made in italy quindi una testa un medio e poi tanti piccolini sotto che producevano varie fasi o insomma le produzioni di borse che dal basso poi salivano verso sopra la logistica poi facendo dei margini tutto il resto mandava al brand x e questa insomma è la filiera poi che succede causa un po gli scandali causa un po perché ovviamente il brand ci ha visto lungo e il brand x che ha cominciato a dire se io da x do a y 10 e y da a un'altra lettera z come zorro da praticamente 5 io se do 7 direttamente a z risparmio io e quello lavora meglio no si mette in regola fa tutta una serie di cose salta un passaggio c'è più controllo quello guadagna di più e io faccio il figo e quello in mezzo praticamente viene tolto perché non mi serve più le logistiche me le creo io mi creo le fabbriche mie le logistiche mie e mi gestisco direttamente e fin qui tutto bellissimo perché il terzista piccolino cresce il brand paga un po di più insomma la fase così c'è la filiera un po più corta e sembrava che tutto andasse bene in realtà poi come succede sempre un po complice furbetti un po complice che quando ci sono c'è tanto tanto lavoro si fa un po finta di non vedere un po non si riesce a vedere tutto tante informazioni si perdono poi escono scandali fabbriche in nero e tutto il resto il problema sta proprio lì togliamo il brand del lusso parliamo di un brand qualunque normale io ho analizzato tanti brand durante questo anno durante questo anno e ancora di più durante questi anni del canale e ovviamente ha impatto guardando i siti guardando i prodotti guardando i social mi rendo conto di chi ha la produzione interna di chi lo fa fare esternamente di chi compra il prodotto e ci appone sopra delle etichette e no non me lo chiedete non vi posso dire queste cose perché ovviamente sono supposizioni non posso mettermi a far scott la yard con i brand dovete farlo un po voi quindi chiedendo però insomma ho un po artigianali sono fatti da artigiani molto spesso cosa succede io vado da tizio gli dico che voglio fare le borse tizio si prende il mio progetto magari lavora per grandi brand mi dice ok te lo faccio bellissimo allora tizio che fa prenderlo da un suo sub si chiama un sub fornitore e fa fare le borse che cosa succede che molto spesso il brand paga per un certo tipo di qualità il fornitore a cui l'ha dato non ha controllo su tutta la filiera e non gli restituisce il prodotto pienamente conforme a quello che dice per di più molto spesso il sub non è neanche legale quando parlo di legalità parlo che tutti i brand di borse di scarpe dovrebbero apporre sulle proprie etichette il dork si si può far sì che tutto a posto il dork il nome dell'azienda dove è prodotto la regione se paga le tasse paga la spazzatura c'è tutta una serie di cose il numero as il numero rea tutta una serie di documentazioni dovrebbe esistere una certificazione unica dove le aziende si iscrivono e lo stato ti controlla non in maniera punitiva proprio una sorta di come dire di doc ok come funziona un po col parmigiano quindi una sorta di consorzio una sorta di certificato che io ti do per produrre made in italy e quindi se tu hai il dork in regola se hai l'aslo se hai le emissioni in atmosfera se hai tutta una serie di cose puoi usare made in italy perché tu sei un'azienda che non solo rispetta i valori tradizionali del know how eccetera eccetera ma rispetta anche quella che è la normativa italiana e tutta un'altra serie di cose questo limiterebbe non eliminerebbe del tutto buona parte delle attività illegali che ci sono in italia e buona parte delle truffe che poi si vengono a presentare a chi compra le borse perché quando voi leggete made in italy e vi eccitate perdonate perché borsa made in italy made in italy e magari quella è fatta dal operaio sottopagato nel sottoscala costretto ad utilizzare collanti senza mascherina senza cappi aspiranti e tutto il resto quindi danneggiando la propria salute poi quei collanti magari o gli altri come dire gli altri prodotti di esubero della produzione vengono smaltiti illegamente tutto il resto ti rendi conto che ti ecciti per questo made in italy per questa etichetta ma in realtà non significa niente ed è ovvio che più scendiamo con il valore del prodotto quindi più scendiamo con il costo del prodotto più è possibile che si presenti illegalità e quindi c'è un made in italy reale che è quello fatto da artigiani o da brand che vanno da artigiani che stanno in regola che pagano le tasse e tutto il resto è un made in italy di facciata un made in italy fatto da un'etichetta dove tu non sai mai dove viene il prodotto dove magari un brand tu vedi che l'influencer di turno o la persona che ti fa la storia su instagram si mette in una logistica ma tu la fabbrica non la vedi io perché continuo a sensibilizzare su questo argomento perché a me non basta più da cliente oltre che da fornitore ma proprio da cliente made in italy c'è un problema a livello normativo perché il made in italy da quello che so poi magari aiutatemi anche nei commenti o condividete il video così troviamo più persone che mi danno informazioni non può avere dei parametri dove c'è una prescrizione per cui deve essere fatto solo in italia da aziende certificate e tutto il resto perché ci sono dei paletti che impone l'europa cioè o meglio non si possono fare discriminazioni se per dire il prodotto è fatto in germania viene importato in italia quindi poiché fa delle fasi di lavorazione in italia questa cosa può essere utilizzata come made in italy e fin qui fin quando la germania possiamo anche starci il problema è quando vengono da altri paesi vengono fatti dei semi lavorati poi vengono importati in italia e io anche sull'etichetta non posso vedere chi ha fatto la logistica quelli la più onesti lo fanno se vedete i brand un po più strutturati anche che importano ti scrivono prodotto importato dalla società x e y perché non si può fare anche prodotto sviluppato dall'azienda x e y perché fare questo perché impone una responsabilità sociale perché se io conosco l'azienda se io so che questa azienda paga le tasse magari sono un cliente è più sostenibile pure a livello proprio sociale che io dia i soldi a questo piuttosto che a qualcun altro mi stanno togliendo lavoro ai cinesi perché perché se viene la troupe televisiva e vede che io faccio produrre le borse al cinese il cinese per quanto in regola può stare per me è un danno dal punto di vista come dire di immagine allora lo do a chiunque o meglio controllo faccio dei controlli formali ovviamente non è che possono controllare tutto però se è italiano italiano e poi questa cosa col tempo vi dico già dove porterà che usciranno degli scandali ci saranno tante aziende che andranno via dei territori perché è importante valorizzare il vero made in italy perché il vero made in italy porta avanti tradizione innovazione know how e il fatto di non valorizzare questa cosa farà perdere tutto questo e in più ci farà perdere proprio un vantaggio competitivo che abbiamo nei confronti di tutto il mondo perché se non si tutela il made in italy come brand e soprattutto se non si tutelano le produzioni made in italy in qualche modo noi perderemo un enorme patrimonio che è quello degli artigiani il progresso va avanti e noi dobbiamo tutelare quello che per noi è il vero valore sarò anche di parte sarò anche che un giorno vorrei che i miei figli o i miei nipoti che si trovano in australia vengano in italia perché vogliono fare i pellettieri però io ci tengo io ci provo porto avanti questa battaglia contro la contraffazione e di narrazione del vero made in italy e spero che si sensibilizzino sempre più brand aprite le fabbriche fatele visitare e certifichiamo la filiera è fondamentale dimmi cosa ne pensi iscriviti al canale clicca sulla campanella per restare sempre aggiornati su tutti quelli che sono i contenuti di questo canale io ti aspetto al prossimo video ciao domenica